La Chiesa deve essere come Dio, sempre in uscita. E quando la Chiesa non è in uscita, si ammalla di tanti mali che abbiamo nella Chiesa. E perché queste malattie nella Chiesa? Perché non è in uscita. E' vero che quando uno esce c'è il pericolo di un incidente, ma è meglio una Chiesa incidentata per uscire a annunciare il Vangelo che una Chiesa ammalata da chiusura. Dio esce sempre. Perché è Padre, perché ama. La Chiesa deve fare lo stesso, sempre in uscita. Grazie. 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 Grazie.